Volevo leggere nel frattempo una domanda da parte di Alcorso Sciaccia, carta-canta-web. Quanto è importante Lucio Gualdi, mister per questa squadra, a livello realizzativo e tattico, con i suoi inserimenti? Eh, Lucio... Sesto gol, eh? Eh, è un tipo un giagno. A un certo punto gli dico, no, Lucio Baffo, ferma, mister, a vero. No, no, Lucio non è un caso che faccia il gol, per cui si crede, ragazzi che si crede, si allena per credersi, quindi fa fatica per poter arrivare alla domenica lì a essere presente dentro l'area. Quindi lui, non è un caso che faccia gol, perché uno vuole essere allenamenta, allenamenta qua, puntualmente sempre gol. Quindi non ci stupisce, perché è una sua caratteristica. Ultima domanda, infatti, nei punti sulla foto...